Tra poco, sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Strage alla lanterna azzurra di Corinaldo, la procura chiede il giudizio immediato per i sei componenti della banda dello Sprite. Lotto per il futuro a Senigallia, un anno esatto dalla tragedia in discoteca, una serie di iniziative in memoria delle vittime. La città di Fano ricorda Benedetta Vitale con 500 candele accese, canzoni e testimonianze per non dimenticare. Ennesimo cassonetto in fiamme nella notte al Lido di Fano, l'allarme lanciato da un cittadino. Di gestore, il comitato protocolla le firme per il referendum, attesa per l'ok della commissione che si riunirà a gennaio. Fano International Volley Cup, dal 27 al 29 dicembre 70 squadre da Serbia e Italia con 700 partecipanti che alloggeranno nelle strutture ricettive di Fano e dintorno. Si accende il Natale a Mondolfo, Serrungarina e Fossombrone, grandi eventi in tutta la provincia di Pesero e Urbino. Buonasera e benvenuti sul canale 17 del Digitale Terrestre per una nuova edizione del nostro telegiornale. Come avete sentito poco fa dai titoli, la Procura della Repubblica di Ancona ha depositato la richiesta di giudizio immediato per sei persone arrestate il 2 agosto scorso nell'ambito dell'inchiesta sulla strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in cui morirono cinque adolescenti e una giovane madre e circa 200 persone rimasero ferite. Si tratta della banda dello spray, giovani tra i 19 e i 22 anni del modenese. Qualcuno operaio, qualcuno in cerca di occupazione dopo aver terminato gli studi, furono arrestati appunto l'estate scorsa dopo una serie di complessi accertamenti tecnici. I sei ragazzi sono ritenuti responsabili di almeno un centinaio di colpi tra furti e rapine in locali del centro e nord Italia, messi in atto spruzzando spray al peperoncino e poi approfittando della confusione per sfilare o strappare collane e monili. Lo stesso modus operandi usato nella notte tra il 7 e l'8 dicembre a Corinaldo. E a un anno esatto dalla tragedia, nelle province di Ancona e di Pesero Rubino, sono state organizzate diverse iniziative per non dimenticare. Lotto per il futuro, da un concerto si torna senza voce, non senza vita. Hanno deciso di intitolarla così la serie di iniziative organizzate per Domenica Senigallia, il ricordo delle vittime della strage di Corinaldo. Un grande evento per ricordare Emma Fabini, Asia Anasoni, Benedetta Vitali, Daniele Pongetti, Mattia Orlandi e la mamma di 39 anni Eleonora Girolimini morti nella calca della discoteca Lanterna Azzurra nella notte tra il 7 e l'8 dicembre di un anno fa, mentre attendevano un concerto di Sfera e Basta. Domenica, dopo la messa in cattedrale a Senigallia, prevista alle ore 9, al Teatro La Fenice verrà presentato un codice etico per i locali. Nel pomeriggio invece alle 15 e 30 la discoteca Mamma Mia ospiterà un'assemblea aperta agli studenti a cura di Scuola Zoo e dalle 19 e 30 musica e letture d'autore in piazza Garibaldi, ma anche la proiezione di un cortometraggio di Luciano Cicconi Massi intitolato Mi batte forte il cuore in ricordo delle vittime. L'obiettivo della giornata sarà quello di trasformare la commemorazione in un'occasione di riflessione per guardare al futuro e lanciare un messaggio che parte dalle Marche per arrivare in tutta Italia. I ragazzi hanno il diritto di divertirsi e gli adulti devono creare le condizioni perché questo avvenga in sicurezza. Anche la diocesi di Fano, Fossombrone e Caglipergola si fa vicina con la preghiera alle vittime e ai familiari coinvolti nei tragici fatti dell'8 dicembre. Per ricordare Benedetta sabato alle ore 17 verrà celebrata una santa messa nella parrocchia del Carmine a Fano. Per ricordare Mattia la santa messa sarà celebrata alle ore 17 e 30 nella parrocchia Cuore Immacolato di Maria Frontone. Per Asia invece lunedì 9 alle ore 21 nella parrocchia di San Giovanni Apostolo a Marotta si terrà la recita del Santo Rosario attorno al fuoco nella ricorrenza della Madonna di Loreto e affidamento a Maria di tutti i giovani. Un altro appuntamento toccante poi si svolgerà domani a Fano alle 19 quando le luci della città si spegneranno e durante il minuto di silenzio 500 candele brilleranno per ricordare e rendere omaggio a una splendida farfalla bianca. Sì, proprio come quella canzone che il cantante ultimo le dedicò a uno dei suoi concerti e che riecheggerà in piazza 20 Settembre accompagnata da danze suavi e seguita da alcune testimonianze. Si posa una farfalla sulla spalla Concluderà il pomeriggio una cantante e amica di Benedetta che le dedicherà una canzone accompagnata da una coreografia di palloncini bianchi che si libereranno in cielo con la speranza che questo piccolo gesto possa arrivare direttamente alla giovane fanese e a tutte le vittime di quel giorno maledetto. Le iniziative sono state fortemente volute dalla famiglia e dagli amici di Benedetta e accolta a braccia aperte dall'assessorato al commercio ed eventi e dall'organizzazione del Natale Più che l'ha coordinata. Durante l'evento verranno distribuite le candele ma è consigliato per chi volesse partecipare di presentarsi già muniti. Anche Fano dunque non dimentica e vuole dedicare questi momenti non solo a chi oggi non c'è più ma anche a chi è riuscito a sopravvivere a quella tragica giornata e che ancora oggi deve fare i conti con un percorso per riuscire a metabolizzare un dolore così forte e forse indelebile. E una ciclista di 62 anni è stata investita oggi pomeriggio da una Fiat Punto e è successo poco dopo le 17.30 in Viale Piceno a Fano all'altezza della Piadineria. A bordo dell'auto c'era un fanese che stava percorrendo la statale in direzione Fano quando per causa ancora al vaglio della polizia locale ha investito la signora mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali da accertare se fosse in sella la bicicletta o se al contrario trasportasse il veicolo a mano. La donna con un sospetto o trauma cranico è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso di Ancona illeso invece il conducente della Punto. E ancora cronaca il piromane dei cassonetti colpisce ancora dopo la scia di incendi. La notte scorsa intorno all'1.30 è stato dato alle fiamme un cassonetto della plastica in via Puccini nella zona Lido a Fano. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che in poco tempo hanno spento le fiamme e dei carabinieri che sono stati allertati da un cittadino. E adesso torniamo a parlare del digestore perché questa mattina il comitato capitanato dall'ex consigliere comunale Davide Del Vecchio e contrario alla realizzazione dell'impianto ha protocollato circa 500 firme per indire il referendum. Oggi presentiamo ufficialmente il referendum dopo un mese dall'annuncio che avevamo fatto di voler fare questo referendum consultivo comunale sul digestore sì o no a Bellocchi a Falcineto, questo era il quesito. Visto anche la confusione e anche le contraddizioni che abbiamo sentito in queste settimane dove una settimana si dice sì si farà a Bellocchi, la settimana dopo si nega, poi si dice che sarà in Cona, poi si dice che sarà in un altro comune, ecco si vota contro una mozione in consiglio comunale che diceva no a Bellocchi a Falcineto, ci vuole chiarezza, il sindaco bisogna che si esprima in maniera chiara con tutti i cittadini, nel frattempo infatti i cittadini hanno continuato a raccogliere le firme, abbiamo raggiunto quasi il doppio di quello che ci serve per presentare il quesito referendario, lo presentiamo ufficialmente oggi, attendiamo il sindaco insieme alla commissione che valuti il quesito e possa far esprimere a questo punto i cittadini, visto che la politica non è capace, non è stata capace in questo ormai anno, perché è passato un anno, a decidere e derimere questo tema che sta molto a cuore i cittadini che non vogliono, come ad esempio noi non vogliamo, un tipo di impianto così com'è a Bellocchi a Falcineto. Quante sono le firme e qual è il bacino dalle quali avete attinto? Zone comunque periferiche in questo momento, abbiamo fatto degli incontri, Carrara, Cucurano, Falcineto, Bellocchi, Rosciano, Centinarola, anche Sant'Urso, però altri ne vorremmo fare, un altro esempio l'abbiamo già lunedì a Rosciano, quindi in questi incontri poi a questo punto non raccoglieremo più le firme per il referendum, ma comunque la petizione popolare va avanti, chi vuole può sottoscrivere la nostra proposta referendaria. E questa mattina il personale del pronto soccorso di Fano è stato impegnato all'istituto professionale Volta perché una studentessa durante l'orario scolastico ha accusato un mancamento immediato è stata la chiamata al 118 ai genitori della giovane da parte della scuola. La studentessa, che si era ripresa poco dopo, è stata comunque sottoposta a tutti gli accertamenti del caso da parte dei sanitari che hanno dunque verificato le condizioni di salute della ragazza. E adesso cambiamo argomento al Teatro Sperimentale di Pesaro. Questa mattina si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di benemerenza ai geometri iscritti al collegio provinciale da oltre 50 anni. Tutti i dettagli nel servizio di Francesco Salvago. Geometri 90 anni di professione è il titolo della manifestazione deliberata dal Consiglio Provinciale Geometri di Pesaro e Urbino al fine di dedicare una giornata di riconoscimento a coloro che degnamente hanno svolto l'attività professionale da oltre 30, 40 e 50 anni. Un anniversario importante, questo del 2019, che a Pesaro è stato celebrato questa mattina al Teatro Sperimentale con la cerimonia di consegna degli attestati di benemerenza ai geometri iscritti al collegio. L'evento, oltre ad avere un carattere celebrativo, è stato anche un importante momento culturale in quanto è stato presentato un volume dal titolo Geometri Storia di una professione, contestualizzato nello sviluppo architettonico ed edilizio della provincia. La presentazione del volume, edito dal collegio, riporta le firme di Nicoletta Giorgetti e Riccardo Paolo Guccioni, che hanno voluto lasciare traccia dell'attività, impegno delle tante battaglie che gli uomini della misura hanno portato a termine in 90 anni di professione. Incontro dei capigruppo consigliari dell'Assemblea Legislativa delle Marche con le rappresentanze sindacali per fare il punto sull'acquisizione del gruppo Ocean SMA Simpli da parte di Conad. Nelle Marche sono coinvolti oltre 1.600 lavoratori, anche i numeri relativi agli esuberi non sono ancora stati stabiliti, ma secondo i sindacati si potrebbero attestare sulle 484 unità. Le strutture per le quali sarebbe già stato ipotizzato il passaggio a Conad sono 11 in provincia di Ancona, 3 in quella di Pesero, rispettivamente 2 per Fermo e Ascoli Piceno, 1 per Macerata. È indispensabile, ha detto il Presidente del Consiglio Mastro Vincenzo, sollecitare i nostri rappresentanti in Parlamento affinché si attivino da subito nella ricerca di possibili soluzioni. Il Presidente ha anche annunciato una lettera sottosegretario allo sviluppo economico, Alessia Morani, e una sua richiesta per un confronto proprio con la Conad. Continuano invece a suscitare interesse gli ecocompattatori che aiutano la raccolta differenziata, immagazzinando lattine in alluminio, bottigliette e flaconi in plastica. Un altro macchinario mangia rifiuti è stato infatti installato nei giorni scorsi a Bellocchi di Fano in via Terza Strada e un altro ancora sarà attivato domani con il taglio del nastro alle 15.30 a Calcinelli di Colli al Metauro in via del Progresso davanti al distributore Aquaself 24. Buoni sconto di tipologie diverse, a seconda delle attività commerciali convenzionate, premieranno i comportamenti virtuosi dei cittadini. Oltre 700 atleti provenienti da Serbia ma anche da tutta Italia a fine dicembre si sfideranno al Fano International Volley Cup, il servizio di Lino Balestra. 70 squadre di volley composte da ragazzi e ragazze under 16 dal 27 al 29 dicembre daranno vita al Fano International Volley Cup, secondo trofeo Ciao Benni. Gli atleti provenienti da 10 regioni italiane e dalla Serbia, principalmente dalla capitale Belgrado, saranno impegnati in ben 190 incontri in 16 impianti sportivi distribuiti non solo a Fano ma anche in altre località limitrofe, comprese Senigallia. Capofila di questa manifestazione è ovviamente la squadra di casa, la Virtus Volley Fano che recentemente ha ricevuto dalla federazione il marchio Oro, unica società marchigiana ad averlo sia nel maschile che nel femminile. La corazzata Lube, tanto per capirci, lo ha ricevuto solo nel maschile. La Virtus è tra le 10 società italiane ad averlo ricevuto in entrambi i settori e questo riconoscimento va a fare il pari con un altro, ricevuto dal CONI, la stella di bronzo per meriti sportivi. Abbiamo molto lavorato in questi ultimi anni per migliorare la qualità dei nostri allenatori che sono anche degli educatori. Abbiamo, diciamo, grazie a un gruppo di ragazzi del maschile, particolarmente in gamba, siamo riusciti a creare una squadra di serie B che poi l'anno scorso è stata promossa in A3. Questo ha anche consentito di far crescere molto i numeri negli ultimi anni. Non abbiamo mai smesso di curare il settore femminile che è ovviamente importantissimo nella pallavolo moderna e grazie a Dio, come dire, la Federazione Italiana Pallavolo se ne è accorta e ci ha assegnato questo marchio. Le ricadute di questo torneo sulle strutture ricettive e locali è notevole. Un migliaio di persone, tra atleti, accompagnatori e società, assicureranno nei tre giorni oltre 1.400 presenze. Ma la mossa vincente, questa volta da parte dell'amministrazione comunale dell'assessore Lucarelli, che ha contribuito al sostegno dell'organizzazione, è stata quella di chiedere, come unica contropartita, di far soggiornare i partecipanti al torneo in strutture ricettive del territorio, creando così quello che l'associazione Albergatori chiede da tempo, ovvero il binomio sport e turismo per colmare i periodi di scarsa affluenza ed infatti in quei tre giorni tra turisti e sportivi le strutture alberghiere fanesi registrano il tutto esaurito. Vedremo tantissimi ragazzi negli ultimi giorni dell'anno con la tuta, con le loro squadre, per combattere per questo torneo ed è un'occasione per noi per riempire gli hotel. I numeri sono importantissimi, oltre ogni aspettativa, quindi è un messaggio anche come amministrazione che lanciamo, anche assieme all'assessore al turismo, di organizzare eventi, il comune aiuta e nonostante gli impianti abbiamo avuto una buona collaborazione anche di tutta la provincia perché è un torneo che coinvolge tutto questo territorio. E con sette nuove iniziative, 48 ore di spettacoli, 13 territori coinvolti, migliaia di visitatori attesi, il Natale che non ti aspetti si prepara al suo fine settimana di punta, tra gli eventi il Natale a Monbaroccio, che si prepara il gran finale, il mercatino proposto in 37 casetti in legno, il lacchiostro dei sapori, la nevicata artificiale che scenderà alle 16.30, 17.30 e 19 sulla piazza principale, l'incontro con Babbo Natale, in programma alle 17 la sfilata del presepe vivente, fino alla capanna della Natività, e anche lo spettacolo, il pupazzo di neve, sabato e domenica alle 17.15. E sarà invece un fine settimana tra le note, quello della Natale più di Fano, oltre alle tante iniziative che si rinnoveranno in città. Domenica l'albero della Via dei Ciliegi e dei Bambini, Via Garibaldi, vibrerà grazie ad un coro di circa 100 bambini e 20 cantanti, tra genitori, insegnanti e amici. Sì, un altro weekend veramente da non perdersi qui al Centro Storico della città di Fano, con tutte le attività che abbiamo annunciato nei giorni scorsi, che prenderanno vita, quindi i presepi di sabbia, pista del ghiaccio, e soprattutto la Via dei Ciliegi e dei Bambini, che esploderà con una serie di laboratori per tutti i bambini, a partire già dal primo pomeriggio, ma qui in piazza 20 Settembre, è un momento molto particolare, grazie alla collaborazione con una scuola tra le note di Bellocchi, un coro che si è ormai espresso veramente in tantissime attività, tra l'altro anche di tipo internazionale, ma che farà proprio il suo concerto qui sotto l'albero, quindi circa 200 bambini, due cori diretti dal maestro Caselli e con, diciamo, tante altre particolarità che vorrà trattare delle canzoni natalizie, ma non solo, e quindi anche un momento molto bello, un momento da non perdere, che si terrà verso le ore 17.30 circa, proprio qui in piazza 20 Settembre. In città esploderanno, si accenderanno tutta una serie di alberi, tanti quartieri che animano la città, le tante associazioni, accenderanno il loro Natale, proprio domenica 8, quindi un'altra domenica da non perdersi qui nella città di Fano. E questo fine settimana le truppe di Fano TV saranno impegnate a Mondolfo, Serrungarina e Fossombrone per le iniziative natalizie. A Mondolfo i visitatori potranno vivere il Natale più bello nel Borgo più bello e stupirsi con lo spettacolo della neve che coprirà il Chiostro di Sant'Agostino, visitare la Casa di Babbo Natale dalle ore 15, divertirsi con gli spettacoli degli artisti di strada, i laboratori e le musiche in programma fino alla via dei biruccini Xmas Race, la competizione allegorica e goliardica in programma alle ore 17 di domenica. A Serrungarina di Colli al Metauro, sia sabato che domenica, è prevista la sesta edizione del Mercatino di Natale con spettacoli itineranti, mostre, sculture di ghiaccio e tanti eventi collaterali come i concerti del Fano Gospel Choir e di Valentina Baldelli direttamente dal programma televisivo ti lascio una canzone. Passiamo a Fossombroni invece dove prende il via il magico Natale, il centro storico sarà ricoperto da un tetto addobbato con 250 lanterne, 70 mila luci, 75 piante, 400 metri quadrati di erba vera e un maestoso albero di Natale. Corso Garibaldi ospiterà un inedito Bosco degli Elfi, un luogo magico in cui incontrare un albero parlante e far visita alla casetta di Babbo Natale. Vi ricordo poi che lunedì sera si rinnova l'appuntamento con Primo Cittadino, tornerà nei nostri studi il sindaco di Fano Massimo Seri. Per intervenire in diretta potete chiamare come sempre 0721 86 14 33 oppure ci potete inviare un messaggio anche utilizzando l'applicazione di WhatsApp, mi raccomando brevi messaggi di testo, al 338 49 68 250. Vi ricordo inoltre che anche quest'anno la redazione di Fano TV propone il concorso alla scoperta dei presepi, lo spazio dedicato alle creazioni dei vostri presepi in tutta la regione Marche. Sarà possibile partecipare attraverso soltanto l'indirizzo email presepi chiocciola fanotv.it si richiedono due foto del presepi insieme a chi lo ha realizzato oppure un video di circa 50 secondi. Il programma inizierà da lunedì prossimo, 9 dicembre, e si concluderà martedì 31 dicembre. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Fra poco trasmetteremo un approfondimento in studio intitolato Suolo e Salute. Grazie per la vostra cortese attenzione e buon fine settimana a tutti voi. Vi ricordo che l'informazione di Fano TV ritorna domani mattina alle 7 puntuale con la nostra rassegna stampa Occhio ai giornali. Arrivederci.